Inter! Inter! Credo che le ultime tre partite a Roma all'Olimpico con i giallorossi al di là degli allenatori siano sempre terminate per 2 a 2. Basta, sarebbe ora di andare a vincere, però tanto siamo tutti in un fazzoletto. Il Napoli 36, c'è il Milan 35, noi 34, l'Atalanta 31, c'è Napoli-Atalanta in quella giornata, poi naturalmente c'è Roma-Inter e c'è Milan-Salleanitana. Non mi stupirei se sabato sera fosse primo il Milan. Ma non è importante, adesso noi dobbiamo tornare su Inter Spezia, diciamo la verità, è questo il video editoriale delle Pagelle, indosso come sempre un meraviglioso capo confezionato per me dall'amico Paolo Greci di Sartoria Sportiva a Milano in Via Ciaia e quindi se volete farvi visita per avere una maglia personalizzata, lui è a vostra disposizione. uso come sempre il mio cellulare ricondizionato, degli amici di Regen a Cusano-Milanino, mi trovo benissimo, per il resto la location, vabbè, la mia casa-museo, ma quello non è importante. Adesso andiamo con le Pagelle, dopo aver rivisto Inter Spezia, partita facile. Ragazzi, Pagelle belle, è qui. Andanovic, 7, la parata su Amian, sul colpo di testa di Amian è da grandissimo portiere. Possiamo dargli 7 o ci avete qualcosa da dire anche stavolta? Spero di no. 7 ad Andanovic. Pacchetto difensivo, gli ho dato 6,5 a tutte e tre, poi se volete gli ho dato 6,5 sia a D'Ambrosio, a Skriniar e a Di Marco, poi se vogliamo potremmo anche dare qualcosina in più a Di Marco, ma i ragazzi poi si montano la testa. Va bene, 6,5, l'avversario era quello che era, Di Marco è andato bene, appena può ci prova, insomma tira e questo è positivo, chiude bene, Skriniar ha fatto il centrale, praticamente è stato, devo dire, un bel muro anche lì in attesa del rientro di De Vrij ed Ambrosio ha messo comunque il suo zampino nel gol dell'Inter e quindi, ragazzi, 6,5 a tutte e tre. Dumfries, mamma mia, eravamo preoccupatissimi, ma sapete che il buon Denzel stavolta, vabbè l'avversario era quello che era, deve riprendere fiducia, deve recuperare fiducia, insomma deve inserirsi ancora nella nostra Inter, però è anche andato al tiro, è impegnato anche lui, Provedel, Provedel, portiere dello Spezia, in assoluto il migliore in campo. Direi che Dumfries mi è sembrato anche più sereno, 6, glielo possiamo tranquillamente dare. Gagliardini, Gagliardini 7, oh, finalmente, ha già fatto 15 gol da quando all'Inter, lo massacrate sempre, ha fatto il gol che ha sbloccato la partita e un altro lo ha tentato e quindi scusatemi, ma Gagliardini un bel 7. Brozzo 6,5, ma non peraltro, gli potrei dare 7, 7, cioè Brozzo, il solito metronomo, Brozovic, ragazzi, lo Spezia non era così impegnativo, quindi per lui ordinare amministrazione. Cialanoglu 7, Cialanoglu continua a piacermi moltissimo, era già stato bravissimo a Venezia, è stato bravo anche questa volta, quindi è stato bravo in chiusura, a recuperare i palloni. Oh, non dimentichiamo che tra l'altro poi ci ha provato due volte, Provvedelli ha detto sempre no, è stato sfortunatissimo, perché se no avrebbe fatto gol. Perisic, Perisic 6,5 perché comunque è sempre presente, ormai è una sicurezza sulla fascia sinistra, quando vedo che c'è Perisic sono tranquillo. Do 6,5 perché vabbè, insomma ha provato anche lui il gol di testa, gli avrei dato 7 se avesse fatto gol, ma va bene così. 7 lo do a Lautaro perché ha fatto un assist bellissimo di tacco per Gagliardini, poi il rigore è stato perfetto, continua a dire a Lautaro, porca miseria, se invece di quelli di Venezia e con lo Spezia, che il risultato era già in nostro favore, non mi avessi sbagliato quello nel derby, non mi do pace di sta cosa qua. Comunque dai, 7. Correa che uno, non fraintendete, ma a Correa piace moltissimo, però gli do 6. Sì, sì, gli do 6, potrei dargli 6,5 perché ha preso una traversa che lì si rimbalza dentro il gol, e un'altra palla Kivior con il ginocchio gli è l'alzata a prove del battuto. Però insomma, ogni tanto gli manca un po' quella cattiveria, e quindi è per questo, solo per questo, che gli do 6. Però tra il quarantesimo e il cinquantesimo ho avuto queste due occasioni, una più bella dell'altra, è stato sfortunato. Inzaghi, Simone, l'allenatore, ormai mi sembra, l'ho visto anche calmo, a differenza del solito, ecco perché dico l'avversario non era così terribile, perché ho visto Inzaghi calmo, non ho visto neanche che gli serviva agitarsi, ormai mi sembra dentro al progetto Inter, sta andando bene, ruota i giocatori, vabbè, ormai in queste due partite non c'è stata neanche sofferenza, sto parlando di Venezia. E Spezia finalmente ha raggiunto il traguardo delle tre vittorie consecutive in campionato, la terza partita per 2-0, considerando anche lo Shakhtar, quindi vuol dire che la squadra è stata messa giù bene, i cambi sono stati buoni, e quindi direi che gli posso dare tranquillamente un 7 a Simone Inzaghi. I cinque giocatori che sono entrati, Sensi, Sanchez, Vidal, Dzeko e Vessino, do 6 a tutti, do 6 a tutti perché comunque ci hanno provato anche loro, tra l'altro Vidal è stato anche lui, non so se sfortunato poteva far meglio, però il diagonale dell'ultimo minuto ha impegnato ancora Provedel, anche Sanchez ha impegnato Provedel dalla distanza, Sanchez mi ha fatto innervosire perché appena è entrato, si è messo a giochettare a centrocampo, ha perso una palla, sono partiti loro in contropiede. Però devo dire che per i pochi minuti che hanno giocato, quando entrano cambi all'86, all'87 di solito, noi giornalisti tendiamo a dare il cosiddetto SV, senza voto. Però, voglio dire, senza voto equivale a 6, insomma non hanno fatto disastri, hanno fatto bene, si sono comunque messi tutti nelle giuste posizioni, qualcuno ha anche provato a tirare in porta, quindi non vedo perché non debba dare un 6 collettivo. Vabbè ragazzi, queste le pagelle, quindi direi tutti al di sopra della sufficienza, come accade da qualche tempo a questa parte, e adesso si gioca ogni tre giorni, ragazzi, concentratissimi, concentratissimi, perché Roma la temo molto, ve lo dico sinceramente, mi aspetto di pareggiarla ancora, sta partita, ma mi dà fastidio, perché ripeto, 2-2, 2-2, 2-2 negli ultimi anni, bisogna andare a Roma e provare a vincere, però ragazzi sapete, è Murigno, che poi ieri, insomma, non parlo dell'arbitro, se l'è presa con un pairetto, sapete che lui poi sposta sempre il tiro quando le cose non vanno bene, e in qualche modo compatta la squadra, sarà dura l'Olimpico, abbiamo, diciamo la verità, no ma è anche il Napoli con l'Atalanta, porca miseria, partitaccia, abbiamo una partita molto difficile, certamente più difficile di Milan-Salernitana, che una passeggiata, però, insomma, se vincessimo anche a Roma, eh beh, se vincessimo anche a Roma, tenete presente che nelle ultime 4 giornate l'Atalanta ha fatto 12 punti, le vinte tutte e 4, l'Inter ne ha fatte 10, e diciamo che quello che ha fatto peggio è il Milan che ha fatto 4 punti, il Napoli ne ha fatti 5, non a caso, noi dal distacco di 7 punti, e ragazzi, abbiamo recuperato la fine, 5 punti al Napoli, e 4 punti al Napoli mi pare 6 al Milan, vabbè, poco importa, siamo tutti lì in un fazzoletto, ragazzi, vi voglio sentire carichi numerosi, live chat, comincio a ricordarvelo, venerdì 3 dicembre alle 19, alla vigilia di Roma-Inter, vi bacio, ciao e viva l'Inter!